La magia del circo tra danza e acrobazia in scena al teatro Le Serre di Grugliasco per tutto il periodo natalizio. Fino al 31 dicembre, con una replica eccezionale 6 gennaio, lo spettacolo Suc con gli artisti del Circo Vertigo e le coreografie dei Sonics. Sentiamo Simone Tarò. Le atmosfere dei mercati d'Oriente sono lo sfondo scelto dai giovani artisti del gruppo Sonics e del Circo Vertigo per questa nuova produzione natalizia. Si intitola Suc, il mercato delle meraviglie, questo lavoro, occasione per danzatori ed acrobati di sfoderare le loro straordinarie abilità. In scena 15 artisti che lavorano tra Torino e Grugliasco e che arrivano oltre che dall'Italia, da Israele, Spagna, Belgio, Francia, Slovacchia, Venezuela, Messico e Croazia. Un mix di lingue e culture che sul palcoscenico trova un linguaggio comune, quello del nuovo circo. Nel caleidoscopico mercato raccontato in Suc, ogni momento è un'occasione per un numero di danza o di acrobazia. Dalle evoluzioni aeree ai tessuti alla giocaveria, dall'equilibrismo sul filo teso al trapezio, dalla contorsione alle evoluzioni al palo cinese o alla ruota canadese. 70 minuti di festa con numeri che si incalzano al ritmo serrato, uno spettacolo che esalta il lavoro comune fra i sonics che hanno curato la regia e la messa in scena e il circo vertigo, due realtà che hanno in comune la vocazione artistica e uno stile fatto di emozioni e spettacolarità. Oh 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 Grazie a tutti.